Terminata la prima prova scritta dell'esame di maturità, il tema d'italiano, come è andata, che traccia hai scelto e cosa provi adesso alla fine della prova? Allora, io ho scelto la traccia, la tipologia B e ho scelto appunto una traccia in cui si parlava dell'importanza del silenzio e niente, è andata bene, in realtà molte tracce erano molto carine, quindi sono state indecise fino all'ultimo e ora mi sento sicuramente liberata da un peso. L'unica cosa da dire è che Pirandello è tornato dopo che era presente solo nel 2003. Sì, questo è vero, nessuno se lo aspettava e pochi si aspettavano in realtà anche di Ungaretti, però a quanto pare non lo sia uscito quest'anno. Allora, io mi aspettavo Ungaretti, però sinceramente insieme a Ungaretti mi aspettavo Svevo, quindi se fosse uscito Svevo avrei scelto lui, però alla fine poi ho scelto Ungaretti con la A1, sarebbe l'analisi del testo, e mi è sembrata abbastanza plausibile anche a livello di argomenti, proprio perché alla fine parlava della guerra, quindi è un tema molto attuale, che poi però sono riuscita anche a rendere nelle altre materie, ad esempio in latino, in storia, e quindi questo, sono anche abbastanza soddisfatta di com'è della riuscita. Allora, diciamo che più o meno le aspettavo, me le aspettavo queste tracce qua, ho scelto la tipologia B, che sarebbe l'analisi del testo, e poi bisogna fare anche il tema, insomma inserire i propri pensieri. Vabbè, io penso che sia andata piuttosto bene, tutto sommato non era ne più nemmeno che un normale compito che ci dava il nostro professore, che però devo dire ci ha preparato molto bene all'esame. Per il resto, vabbè, speriamo sia andata bene, e auguro un in bocca al lupo anche agli altri ragazzi che stanno affrontando gli esami. Sì, mi aspettavo quelle della tipologia A, sono uscite Pirandello e Ungaretti, e io ho fatto la traccia C, cioè la tipologia C, ho fatto, diciamo, riguardo l'imperfezione di Rita Levi Montalcini, e secondo me penso sia andata bene, però si vedrà, dai, tutto bene, diciamo. Il primo scoglio superato, adesso si pensa già avanti. Adesso si pensa al più difficile che è Greco, però bene, andrà bene, dai, come va, va, va bene.